Mentre il Movimento 5 Stelle conferma il percorso di consultazioni prima con i municipi e poi online per arrivare a un nome che non sia solo nuovo. Deve essere una persona che non sia legata a questi continui compromessi tra i partiti. Per questo il Movimento 5 Stelle farà scegliere il candidato sindaco per Roma attraverso la rete e solo il Movimento 5 Stelle può liberare una città come Roma dai continui balletti del PD e di Renzi proprio per le poltrone.